più divertente di quel che pensavo inizio proprio a divertirmi sono più forte di me non vedo niente che succede? che ammazzate di mamma davvero un bel colpo è stato semplice il battaglione sono pazzi dobbiamo più sopportare le loro stronzate ragazzi, manchi aperti! fate fuori quei guadagni nessuna pietà ragazzi, manchi utenti Ma l'hanno preso! Senza di te le cose sarebbero andate diversamente. Passa la voglia di lavorare. Mi ho mangiato a tre giorni. Non è tuo! Ma l'hanno preso! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.